vi faccio il video di prima perché era veramente penoso dal punto di vista dell'audio allora dicevo truth in translation jason b dunn celebre autore citato dalla torre di guardia accademico celebre innanzitutto scusate mi permetto di correggere non è celebre ma neanche quell'altro che sto per citarvi a celebre sono due studiosi accademici americani lui è più specializzato nello studio del sociologico delle religioni studioso che è salito agli onori delle riviste della torre di guardia perché è in pratica che io sappia l'unico studioso almeno in america che si dichiara non del tutto non del tutto perché quello che la torre di guardia non dice che ha anche delle riserve jason bidan lo vedremo su quale punti della traduzione del nuovo mondo jason bidan ha delle riserve ovviamente non citate dalla torre di guardia e invece la risposta vedremo di un professore di fede evangelica il professor thomas howe che si è preso la briga di rispondere punto per punto alle osservazioni del professor bidan chi vincerà in questo scontro ammesso che ci possa essere un vincitore ammesso non concesso ma questo lo lascio ovviamente come suspense e facciamo una rapida così inquadratura degli argomenti trattati così potete fare anche la foto birichini lo so che farete la foto sono testi che ovviamente si possono ordinare online entrambi devo dire che il formato kindle di che ho cercato di questo testo costa veramente tanto 40 e passa euro strano stranamente alto come prezzo kindle e questo è veramente viene citato ogni piesso spinto perché assieme al caduto in disgrazia rolf furuli accademico anch'esso che era portato come esempio di voce bastian contraria nella annosa questione della cronologia è caduto in disgrazia nel momento in cui ha scritto ma lo sapeva che sarebbe stato disassociato il libro la mia beniamata religione per sapere chi era rolf furuli andate nel mio canale a vedere l'argomento dice i canali i video che è dedicato a questo argomento avete pazienza sono le 11 ed è stata una giornata molto pesante allora mi prenderò questa veramente briga di tradurre ma faccio anche un po di esercizio di inglese va bene lo faccio anche per quello e quindi insomma però non sarà non domani ecco domani certamente non sarà una cosa immediata i capitoli sono diversi però pian pianino little by little c'è una bella canzone dei beatles quindi cercheremo di venire a capo quello che c'è scritto come sottotitolo faccio vedere il titolo di professore ho dice la divinità di cristo nelle moderne traduzioni che sono anche appunto l'oggetto di indagine di gesù bidan e dice una risposta alle affermazioni di gesù bidan è una difesa della testimonianza che la scrittura dà alla divinità di gesù come vedete le traduzioni non devono essere sempre pedissegue bisogna rendere anche il senso della traduzione no interessante il mio nipote che sta studiando ingegneria informatica a glasgow ha cominciato adesso sbagliare l'italiano e sono contento perché significa che si sta abituando a pensare in inglese quindi a formulare nella sua testa le frasi in inglese ecco che lì proprio scatta la padronanza ecco della lingua comincia a essere padrone della lingua inglese e in scozia auguri perché comunque l'accento l'accento scozzese non è esattamente a volte non si capiscono tra londinesi scozzesi pensate va bene alla prossima buona continuazione di ricerca buona continuazione di ricerca